E' il dottor Mauro Mancini Proietti, ex vicequestore alla guida del commissariato di polizia di Montevarchi, la vittima dell'incidente stradale a Levanella in via Aretina. E' successo poco prima delle 15, coinvolti nel terribile schianto una moto ed un furgone, Mauro Mancini Proietti si trovava in sella alla sua due ruote. Secondo alcune testimonianze, la moto diretta verso Levanne avrebbe sbandato e Mancini Proietti sarebbe caduto a terra dall'altra direzione, però stava arrivando un furgone che non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto. Immediato l'intervento degli operatori dell'emergenza urgenza per il sessantenne, però non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. Atterrato anche il Pegaso, sul posto poi vigili del fuoco e polizia, municipale di Montevarchi e carabinieri per i rilievi e l'accertamento della dinamica. Dal 2015 al 2021 Mauro Mancini Proietti era stato vicequestore di Montevarchi. Nel 2020 era stato poi scelto dalla Presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, per un incarico a titolo gratuito e di natura fiduciaria finalizzato alla collaborazione nell'attività di indirizzo politico che riguardavano specifiche materie ed argomenti. Una notizia che non avrei mai voluto sentire e che mi ha tolto il despiro, dichiara oggi la Presidente e Sindaco di Montevarchi, un vero esempio di persona dedita alle istituzioni che aveva servito una vita. La sua prematura scomparsa è una grande perdita per la comunità, ma soprattutto, conclude, oggi perdiamo un amico e un collaboratore serio e fidato che dava tanto in tanti ambiti.